via libera farmaco AstraZeneca da domani si riavvia la campagna vaccinale Asura al lavoro per recuperare entro i primi di aprile tutti gli appuntamenti annullati dal prossimo mese verranno vaccinati 240.000 disabili e più di 100.000 super fragili l'annuncio dell'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini su Fano TV l'appello di Massimo Domenicucci uno dei primi a portare avanti la battaglia il problema l'avevamo posto in prima battuta anche per i familiari e chi assiste il disabile perché il dramma vero è proprio quello Gli anticorpi monoclonali un'arma in più contro il coronavirus le interviste a Mucci fra usini del reparto di medicina di Marche Nord questa hanno detto è la prima vera terapia per i pazienti non ricoverati Weekend in zona rossa la prefettura annuncia un aumento dei controlli a Urbino i carabinieri arrestano un campano per rapina e porto abusivo di armi e multano due giovani per schiamazzi e violazione del coprifuoco Solennità di San Giuseppe celebrata dal Vescovo di Fano alla Santa Messa nella chiesa di Spicello nel comune di Terre Roveresche Ecco il nuovo bocciodromo di via dell'Acquedotto il sindaco Riccio e gli assessori annunciano altri progetti la zona verrà completamente riqualificata Una Santa Messa e alberi piantati in memoria di Italo Nannini l'Africa Chiama celebra i 20 anni dell'associazione nel primo anniversario della scomparsa del suo fondatore Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia in primo piano il via libera al vaccino AstraZeneca l'Azur a Revasta 1 da domenica riprenderà le vaccinazioni nei tre punti vaccinali della provincia di Pesero Urbino L'Agenzia Italiana del Farmaco ha revocato il divieto d'uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa del vaccino AstraZeneca A renderlo noto oggi è stato il direttore generale dell'AIFA Nicola Magrini in diretta dalla sede del Ministero dove ha tenuto una conferenza stampa in modalità online Dopo le analisi e gli accertamenti del caso l'EMA ha stabilito che i benefici del siero di AstraZeneca sono largamente superiori ai rischi e dunque hanno dichiarato non vi è motivo di vietarne la somministrazione Così anche nelle marche da domani si riavvia la campagna vaccinale e nelle prossime ore, ha precisato Acquaroli anche i medici di medicina generale potranno ricominciare quella a domicilio Nel frattempo stanno procedendo come da programma i richiami Pfizer e Moderna agli anziani con più di 80 anni che hanno ricevuto la prima dose tra il 20 febbraio e il 12 marzo Al lavoro anche la Azure Area Vasta 1 che ha già predisposto il piano di recupero con un importante dispiegamento di personale medico Ad illustrarci l'attività è il direttore Augusto Liverani Visto il via libera all'AstraZeneca possiamo dire che è un vaccino sicuro come gli altri? Sì sicuramente è un vaccino che ha un ottimo profilo di sicurezza Fortunatamente il parere dell'EMA ha consentito all'AIFA di programmare la sospensione di questo divieto di utilizzo in tutto il territorio nazionale quindi noi potremo ripartire con la somministrazione delle prime dosi utilizzando questo vaccino come previsto dal piano nazionale Quando ripartirete? Noi abbiamo in questi giorni le nostre sedute che sono occupate per il completamento delle seconde dosi con vaccino Pfizer quindi prevediamo di ripartire domenica 21 con le prime dosi utilizzando il vaccino AstraZeneca Ricontatterete voi gli utenti? Tramite il CUP noi ricontatteremo telefonicamente gli utenti e li inviteremo nelle nuove date Che cosa prevede il vostro piano di recupero? Sì abbiamo cercato di impostare le nuove sedute per recuperare le persone che a causa del divieto non abbiamo potuto vaccinare con AstraZeneca Ora riprendiamo Avevamo 400 dipendenti dell'Università di Urbino previsti per il 16 e 17 marzo che recupereremo sabato 27 marzo sempre al Palazzetto dello Sport di Urbino A Fano il 16 marzo abbiamo fatto una seduta incompleta perché avevamo un numero limitato di dosi di Pfizer quindi molte persone oltre 80 anni previste non si sono potute vaccinare e queste verranno recuperate il 2 aprile Sempre per Fano le sedute del 17 e del 18 marzo verranno recuperate rispettivamente sabato 3 aprile e lunedì 5 aprile mentre la seduta di Pesaro del 18 marzo verrà recuperata il 31 marzo Quindi entro il mese comunque riuscirete a recuperare? Entro il mese o i primi giorni di aprile riusciremo a recuperare le sedute che abbiamo temporaneamente sospese E nelle Marche oggi è stato registrato un alto numero di decessi Nelle ultime 24 ore sono morte 20 persone tra cui una donna di 56 anni di matelica senza patologie pregresse Nella provincia pesarese hanno perso la vita 3 persone tra gli 86 e gli 88 anni rispettivamente di Frontone, Piobbico e Sasso Corvaro I positivi rilevati nell'ultima giornata sono 822 di cui 279 in provincia di Ancona seguita da Pesaro Rubino con 202 casi Negli ospedali invece ci sono 21 ricoveri in più nei reparti non intensivi in lieve aumento anche quelli in terapia intensiva mentre calano di 24 unità quelli in semi intensiva E a Marche Nord è partita la sperimentazione con gli anticorpi monoclonali Un'arma in più a disposizione dei medici per la lotta al coronavirus Oggi ne abbiamo parlato con il dirigente medico Luciano Mucci e il primario di medicina interna Gabriele Frausini Sono la nuova speranza per debellare il virus dal principio La sperimentazione degli anticorpi monoclonali avviata ieri per la prima volta a Marche Nord su pazienti contagiati e fragili rappresenta un grande passo avanti Nelle Marche dopo l'ok di AIFA sono arrivate 133 sacche tre delle quali sono state appunto utilizzate ieri all'ospedale San Salvatore di Pesaro un record assoluto Con questo farmaco noi abbiamo un'arma terapeutica in più da destinare a quei pazienti particolarmente fragili con un alto rischio di evoluzione verso una patologia particolarmente impegnativa in cui oltretutto sono presenti controindicazioni agli attuali farmaci disponibili per la fase di infezione e quindi possiamo bloccare questa patologia all'esordio dai primi sintomi destinando ripeto questo farmaco a pazienti che altrimenti evolverebbero verso una situazione particolarmente critica in cui abbiamo pochissime armi terapeutiche Sono degli anticorpi che sono stati costruiti in laboratorio che hanno un obiettivo unico, quello di andare a neutralizzare la proteina S che è la chiave che il virus usa per penetrare nelle nostre cellule se noi intorno a questa chiave mettiamo una specie di cappuccio questa chiave non serve più, non funziona e il virus non riesce a penetrare più nel nostro organismo e la malattia che è lieve in questi casi rimarrà sempre lieve, non si complicherà Quindi sono stati fatti in questo senso, saranno fatti dei passi avanti possiamo dire? Assolutamente, sono dei passi avanti questa rappresenta la prima vera terapia per il paziente non ricoverato non avevamo prima farmaci decisivi, adesso avevamo un farmaco decisivo la quantità di farmaco a disposizione non è enorme per cui noi abbiamo riservato, secondo le direttive dell'AIFA questo trattamento a dei pazienti fragili che pur avendo una malattia di forma lieve potrebbero sviluppare a nostro parere una malattia estremamente severa Una rassicurazione da parte del dottor Frausini anche sul vaccino AstraZeneca È stata una bolla di sapone, AstraZeneca è un vaccino che deve essere fatto vacciniamoci per arrivare il prima possibile tutti a questa immunità di gregge che ci terrà fuori finalmente da questo maledetto incubo E continueranno nel mese di aprile le vaccinazioni alle persone diversamente abili Oggi Angelica Panzeri ha fatto un bilancio con l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ma ai nostri microfoni parla anche un disabile che lamenta l'esclusione dal piano vaccinale dei familiari e di chi si prende cura di loro Qualcosa si muove nel mese di aprile Saranno vaccinati anche i disabili o meglio continueranno ad essere vaccinati poiché finora ne abbiamo fatti 1.600 in tutte le marche precisa l'assessore regionale Saltamartini e proseguiremo Ad aprile arriveranno 133.000 dosi di Pfizer 44.460 al 12 aprile e questo ci permetterà di andare avanti con le categorie fragili In tutto dovremo vaccinare 240.000 disabili di cui 80.000 diabetici e continueremo anche con i 117.000 super fragili per i quali le vaccinazioni sono già partite Il grosso dei vaccini per i disabili, fa sapere Saltamartini sarà fatto nel mese di aprile Ciò non significa partire dal 1 aprile, precisa l'assessore ma tenete conto che dal 1 aprile a fine giugno arriveranno un milione di dosi e questo ci consentirà di procedere con le vaccinazioni anche per questo tipo di soggetti Esulta la consigliera Micaela Vitri che proprio su questo tema ha presentato una mozione in consiglio regionale Mi fa piacere che la nostra richiesta sia stata recepita perché finalmente sono tutelate le persone vulnerabili scrive Vitri in una nota anche se ancora nessuna risposta è arrivata sui loro familiari ed assistenti Uno dei primi a portare avanti la battaglia sulle vaccinazioni per i disabili è stato Massimo Domenicucci presidente di Piattaforma Solidale che ha commentato così la notizia sull'avvio delle prenotazioni riservate alla loro categoria Prima battuta con entusiasmo poi dopo facendo una riflessione un po' più accurata, approfondita ci sono venuti già dei dubbi perché nell'intervento che ha fatto l'assessore regionale durante la consulta ha dichiarato cose contrastanti fra loro perché in prima battuta ha detto che i disabili o verranno chiamati oppure dovranno contattare il proprio medico di famiglia quindi cosa significa o l'una o l'altra per chiarezza e in più ha parlato solo di disabili mentre noi il problema l'avevamo posto in prima battuta anche per i familiari e chi assiste il disabile perché il dramma vero è proprio quello Lei tra l'altro il Covid l'ha avuto quindi a maggior ragione richiede questo inserimento celere nel piano delle vaccinazioni per i disabili Sì, il Covid l'ha avuto ho anche sperimentato sulla mia pelle la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni perché le istituzioni sanno bene chi sono i soggetti che hanno una disabilità grave quindi un handicap accertato con la legge 104 lo sanno bene ma durante quel periodo che è durato ben 40 giorni non sono mai stato contattato da nessun ente tranne l'azienda sanitaria che è venuta a farmi il tampone a casa non ho sentito più nessuno che venisse a chiedere se avevamo delle esigenze delle necessità perché anche mia moglie che mi accudisce si era malata quindi non potevamo uscire non potevamo fare niente da soli e gli amici ci ha dato una grossa mano Sono 79 le multe elevate questa settimana dalle forze dell'ordine che in provincia di Pesaro e Urbino hanno eseguito oltre 3.000 controlli sul rispetto delle norme anti-Covid e visto l'incremento dei contagi oggi durante una riunione preseduta dal prefetto Vittorio Lapolla è stato disposto un ulteriore aumento dei controlli gli spostamenti vi ricordiamo sono ammessi solo per motivi di lavoro salute o necessità mentre l'attività motoria può essere svolta esclusivamente nelle aree vicine alle abitazioni ancora cronaca i carabinieri di Fermignano oggi pomeriggio hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 38enne di origine campana per i reati di rapina e porto abusivo di armi l'uomo è stato portato nel carcere di Villa Fastigi e dovrà scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione ieri sera invece la radiomobile della compagnia carabinieri di Urbino è intervenuta nel centro storico dopo la segnalazione di un cittadino che lamentava urla e schiamazzi provenire dal portone d'ingresso della sua palazzina situata nei pressi di via Budassi in effetti si era formato un assembramento di giovani di ragazzi che alla vista dei militari si sono dati alla fuga due di loro però sono stati identificati e sanzionati si tratta di un ragazzo di 21 anni di una studentessa diciottenne multati per violazione del coprifuoco senza giustificato motivo per manifesta ubriachezza in luogo pubblico ma anche per disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone cambiamo argomento in occasione della solennità di San Giuseppe oggi il vescovo di Fanno Armando Trasarti ha celebrato una santa messa nella chiesa di Spicello nel comune di Terre Roveresche la seguita per noi Filippo Pucci Padre non si nasce lo si diventa si diventa padre e madre quando si comincia ad avere responsabilità di qualcuno ad educare da introdurre all'esperienza della vita per renderlo capace di scelte di libertà e anche di partenze con queste parole di Papa Francesco il vescovo Armando Trasarti ha celebrato oggi pomeriggio la santa messa trasmessa in diretta su Fanno TV in occasione della solennità di San Giuseppe nel santuario situato nelle splendide colline di Spicello nel comune di Terre Roveresche il mondo ha bisogno di padri e non di padroni ha continuato il vescovo sulle parole del Santo Padre perché l'amore autentico è legato alla capacità di donarsi e non alla smania di possesso la ricorrenza di San Giuseppe è legata anche alla festa del papà che viene celebrata in diverse parti del mondo il 19 marzo e che secondo la credenza è la data della morte di Giuseppe padre putativo di Gesù tuttavia oltre che di padre San Giuseppe è anche un potente modello maschile per la società di oggi non cerchi riflettori non ha bisogno di salire sul palcoscenico ma è grandissimo nella sua operosità silenziosa e nella sua rispettosa delicatezza verso Maria e questo è il migliore antidoto al maschilismo e al narcisismo diffuso di chi tenta di prevaricare la donna per autoaffermarsi alla Santa Messa ha partecipato anche il parroco Don Cesare Ferri che ha sottolineato la missione della Chiesa Spicello e il motivo della presenza della figura di San Giuseppe all'interno del santuario la missione del santuario è rimettere insieme Maria e Giuseppe considerati veri sposi e vero madre e vero padre di Gesù perché purtroppo nella devozione popolare è successa una separazione una specie di divorzio devozionale Maria Maria avanti Giuseppe quasi dimenticato o tutt'al più un vecchiarello lì vicino e nient'altro invece veri sposi sotto ogni aspetto vero padre sotto ogni aspetto in forza del matrimonio e questo per avere la grazia da lui l'intercessione perché ci sia questa unità d'intente anche nelle nostre famiglie questa è la grazia che noi chiediamo e questa diciamo è la missione di questo santuario riunire le famiglie rafforzare le famiglie La regione Marche stanza 21 milioni di euro per riqualificare 10 scuole lo annuncia l'assessore all'edilizia scolastica Francesco Baldelli gli interventi riguardano il nuovo polo da 3 milioni e mezzo nel comune di Pedaso la scuola dell'infanzia Castelfidardo il nuovo polo dell'infanzia Treia e il convitto per l'istituto Cecchi di Pesaro per oltre 3 milioni 700 mila euro proposto dalla provincia di Pesaro Urbino saranno finanziati interventi per le scuole di Petriolo Sassoferrato Monte Calvo in Foglia Sasso Corvaro Auditore Pian di Mileto e Petriano Taglio del nastro questa mattina a Pesaro per il nuovo bocciodromo di Via dell'Acquedotto la struttura realizzata anche grazie al bando periferie sarà destinata ad attività sportive e ricreative Terminati i lavori al nuovo bocciodromo di Pesaro la struttura sportivo ricreativa pubblica in Via dell'Acquedotto edificio che si sviluppa ricorda il sindaco Matteo Ricci in uno spazio fino ad oggi considerato un retrobottega e che con la nuova struttura potrà finalmente rinascere formato da due edifici il bocciodromo costato al comune un milione 700 mila euro sarà destinato in parte alle attività sportive e in parte alle varie attività collaterali una struttura che si sviluppa su un unico livello al piano terra ed è divisa in quattro aree di 816 metri quadri per le competizioni sportive zona atleti di 200 metri quadrati per gli spogliatoi degli atleti zona ricreativa di 230 metri quadrati con bar e zona polivalente con sala gioco e biliardi questo è un intervento che era nel programma di governo del sindaco fortemente voluto all'amministrazione comunale anche per dare una risposta a una disciplina sportiva che ha tanti praticanti il vecchio bocciodromo e l'ex concordia insomma è una struttura ormai ammalorata che andrà alienata quindi ci permetterà di recuperare le risorse questo è un intervento che rientrava all'interno del progetto Bando delle Periferie che ci ha permesso grazie alla cifra che il Comune è impegnato per l'organizzazione di questo bocciodromo di aggiudicarci un bando nazionale molto importante di 11 milioni e 2 che ci porterà a riqualificare tutta questa zona che era una delle zone degradate della città tant'è che oltre al bocciodromo avremo anche abbiamo già siamo già partiti con la pista di skate con il pump track con l'area camper e i servizi all'interno del bocciodromo saranno decisivi anche per sviluppare le altre attività sportive vorrei ricordare che questo è un impianto di Valenza nazionale quindi un impianto nazionale con quattro piste e ha una struttura tale che potrà essere anche rimodulato e metterci una pavimentazione sopra potrà diventare anche un impianto per altre discipline sportive quindi diventa una struttura sportiva una struttura di servizio e una risposta importante che si vuole dare alla città questo è il momento in cui viene ufficializzato alla città la fase di fine lavori sarà l'inizio della parte di allestimento di tutta l'attività sportiva e della parte diciamo del bar quindi nei prossimi mesi questa qui sarà una struttura che vedrà tante persone e sarà anche la sede del comitato provinciale della FIB e quindi ci sarà la possibilità di ospitare grandi competizioni di carattere nazionale ma anche una collaborazione con le stesse scuole perché vogliamo stimolare incentivare e far sì che sempre più persone possano giocare a bocce a un anno dalla scomparsa di Italo Nannini lo vedete alle mie spalle presidente fondatore dell'Africa Chiame i volontari dell'associazione hanno deciso di organizzare un evento per sostenere i profughi in Bosnia chi ha conosciuto Italo Nannini sa bene che era un vulcano di idee sempre in prima linea di fronte alle ingiustizie uno spirito inarrestabile accompagnato da un impegno incessante verso i più deboli senza limiti geografici e proprio lui è dedicata all'iniziativa intitolata non voltarsi organizzata per lunedì 22 marzo dai familiari dai volontari dell'Africa Chiama a un anno esatto dalla scomparsa del presidente e fondatore dell'associazione umanitaria è un'iniziativa attraverso la quale l'Africa Chiama destinerà ogni anno un contributo ad un progetto ad una problematica che in questo diciamo in quel momento ha un'emergenza in qualche modo per quest'anno quindi per la prima iniziativa l'Africa Chiama ha deciso appunto di non voltarsi di fronte a quella che è l'emergenza appunto delle migliaia di persone in fuga lungo la rotta balcanica e quindi destinerà una somma di 2000 euro a un progetto concreto di Caritas Marche che appunto è presente in quei luoghi proprio a sossegno delle popolazioni il programma prevede per lunedì pomeriggio alle ore 18 una santa messa e ricordo di nannine alla parrocchia San Pio X la sera invece alle 21 si terrà un appuntamento dal titolo Voci dalla rotta balcanica sulle pagine facebook di Caritas Marche e Africa Chiama inoltre in ogni centro realizzato dall'associazione a Nairobi in Kenya i Ringa in Tanzania e l'Usaka in Zambia verrà piantato un albero in ricordo del suo fondatore mio padre ogni volta che faceva un viaggio in Africa ci teneva tantissimo alla bellezza del centro quindi la prima cosa che notava erano i fiori e le piante colorate e quindi il fatto che soprattutto fosse un centro bello ad accogliere i bambini e quindi l'idea anno dopo anno di arricchirlo appunto con piante fiori e frutti è per noi uno dei modi appunto per ricordare il lavoro che ho fatto e soprattutto la testimonianza che ci ha lasciato un gesto simbolico che cade proprio nel ventennale dell'associazione che negli anni ha portato a termine centinaia di attività e progetti legati ai settori dell'alimentazione dell'istruzione e dell'inclusione scolastica quest'anno più che mai diciamo è stato un anno molto particolare di grande difficoltà ma ci teniamo a dire che nessun progetto è stato lasciato indietro e quindi abbiamo potuto garantire cibo salute e istruzione a ben 21.000 persone e questo è possibile anche grazie al supporto e al sostegno dei tanti volontari sostenitori sparsi in tutta Italia è sempre possibile sostenere l'associazione e tutte le attività attraverso mille forme di sostegno l'ultima quella che proprio stiamo realizzando in questi giorni è la vendita delle uova solidali a sostegno di un progetto contro la malnutrizione e vi annuncio che lunedì sera al programma di Fano TV Primo Cittadino ci sarà il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi tra poco invece una nuova puntata di esplorare i confini del Circolo Bianchini di Fano dedicata a John Cage io vi ringrazio per l'attenzione e l'informazione invece come sempre torna domani mattina alle 7 puntuale con la nostra La Segna Stampa arrivederci